Pace, buongiorno a tutti, buona domenica nel Signore. Oggi è 4 ottobre, sono le 7 del mattino e ci ritroviamo ancora una volta insieme per meditare la parola del Signore. Stiamo meditando in un modo particolare l'Epistola ai Filippesi e ieri abbiamo iniziato la lettura del capitolo 4. Ricorderete che infatti abbiamo meditato fino al primo verso del capitolo 4. Questa mattina continueremo leggendo i versi da 2 fino a 9. Sono versi nei quali ci potremmo soffermare molto a lungo ma naturalmente dobbiamo prendere soltanto qualche spunto o poi ognuno di noi personalmente potrà fare le riflessioni che lo Spirito Santo gli suggerirà. Quello che vorrei evidenziare è che innanzitutto l'Apostolo Paolo fa un'esortazione alla unità e lo fa prendendo spunto da due donne Evodia e Sintiche che avevano lottato per il Vangelo insieme a Paolo ma che ora evidentemente avevano dei problemi tra di loro. Infatti Paolo gli dice che devono essere concordi nel Signore ed è importante che in mezzo al popolo di Dio ci sia la concordia, che ci sia una visione unitaria, che ci sia un'azione unitaria e che si sostengono insieme le lotte che sono proposte dalla vita spirituale. E quando questo non c'è allora è importante che si venga in aiuto di coloro che si trovano in condizioni di contrasto ed è quello che Paolo chiede. Infatti dice prego pure te mio fedele collaboratore vieni in aiuto a queste donne. E questo è importante, essere promotori della pace anche perché Gesù promette un premio per coloro che si adoperano per la pace e ancora noi dobbiamo essere di quelli che fanno di tutto affinché l'opera di Dio, il popolo di Dio possa camminare unito, unito nella verità, unito sotto l'impulso e la guida dello Spirito Santo, unito nel cercare di proclamare l'Evangelo. Dopo questa breve esortazione Paolo invita i suoi lettori a rallegrarsi nel Signore. Ci sono tanti motivi per cui ci possiamo preoccupare, dispiacere, scoraggiare nel mondo che ci circonda e delle volte anche nel vedere il comportamento e l'atteggiamento di alcuni credenti ed è per questo che è importante rallegrarsi nel Signore. Considerare la salvezza, i doni che vengono da parte di Dio, le esperienze che abbiamo fatto con il nostro amato Gesù, tutto questo ci aiuta a rallegrarci, considerare quello che Dio sta preparando per noi nel cielo, un luogo, la Gerusalemme celeste dove non ci sarà più il pianto, né il grido, né la morte, né il dolore, né la malattia, è qualcosa su cui dobbiamo soffermarci e che ci spinge a rallegrarci. Sì, fratelli e sorelle, rallegriamoci, perché altrimenti veniamo sopraffatti dalla paura, dall'ansia, dalla preoccupazione e non viviamo bene nella nostra vita sociale ma neanche la nostra vita spirituale. Oltre a rallegrarsi, ai credenti di Filippi, viene suggerito di essere mansueti e di far sì che questa mansuetudine possa essere nota a tutti quanti. Sì, fratelli, ancora oggi dobbiamo ricercare questa virtù. Fu Gesù a dire, siate umili e mansueti come io lo sono e lui lo era di cuore, anche noi dobbiamo esserlo di cuore. L'arroganza, la prepotenza, l'atteggiamento ribelle governano e dominano questo mondo. I cristiani invece sono mansueti e Dio ci dia grazia di esserlo pienamente ogni giorno, anche perché, come dice Paolo, il Signore è vicino. Ora, questa espressione potrebbe essere intesa in due modi, sia nel fatto che il Signore è presente ovunque noi ci troviamo e quindi egli vede il nostro comportamento, sia nel senso che il suo ritorno è qualcosa che è alle porte. In ogni caso, ricordiamoci, il Signore è vicino. E questo è un motivo sia per manifestare un atteggiamento di sottomissione al Signore, alla Sua parola, sia per non essere angustiati di nulla. Perché? Perché sappiamo che facendo conoscere le nostre richieste al Signore in preghiera e supplica, il Dio saprà come intervenire ed operare per aiutarci e sostenerci anche nella più grande delle difficoltà che dovremmo attraversare. E questa consapevolezza ci deve spingere, insieme alla preghiera, a ringraziare anticipatamente Dio per quello che gli farà e ci donerà. È bella questa espressione, no? Pregare accompagnando la preghiera con ringraziamento. E quando viene fatto con sincerità questo, è un'espressione di fede nella bontà e nella misericordia di Dio. E noi dobbiamo avere fede in questo. Perché sappiamo in chi abbiamo creduto e abbiamo realizzato che Dio è un Padre amorevole, ma soprattutto è un Padre che sa dare cose buone ai Suoi figli. E quindi non ci negherà mai nulla che possa essere utile al nostro progresso spirituale innanzitutto, ma non solo. Perché Dio si ricorda anche che noi siamo uomini e donne che viviamo su questa terra e che abbiamo anche dei bisogni relativi al vivere su questa terra. Quando questo avviene nella nostra vita, cioè quando ci ralleghiamo nel Signore, quando la nostra mansuetudine è nota a tutti, quando confidiamo in Dio senza angustiarci e la nostra preghiera è accompagnata dal ringraziamento, allora quando questo avviene la pace di Dio custoderà i nostri cuori e i nostri pensieri in Cristo Gesù. Bello, bello vivere nella pace che viene da parte del Signore. Perché non è una pace come il mondo la dà, ma è una pace che viene direttamente dal cielo. Gesù e i Suoi discepoli, lo ricorderete, che erano tutti timorosi ed erano rinchiusi dopo la sua morte, entrò a porte chiuse e disse pace a voi, io vi do la mia pace. Noi stamattina vogliamo dire Signore dacci la tua pace. È una pace che sopravanza, che supera ogni intelligenza perché non ha una spiegazione logica, perché la riusciamo a sentire, a vivere nonostante non ci sono delle volte dei motivi per essere nella pace, ma questa pace è un tesoro prezioso che dobbiamo veramente custodire e che a sua volta custodirà sia i nostri pensieri sia i nostri cuori. E affinché questo avvenga è necessario che ascoltiamo anche il suggerimento che ci viene dato al verso 8, e cioè le cose vere, onorevoli, giuste, pure, amabili, quelle in cui vi è buona fama e virtù e lode, quelle devono essere oggetto dei nostri pensieri. La nostra mente deve essere ben cibata, cari nella grazia, e Dio ci aiuti ancora oggi a rigettare tutta la spazzatura di questo mondo, per poterci nutrire del buon cibo che viene direttamente dal cielo. Ultima raccomandazione che viene fatta da parte di Paolo, le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e viste in me fatele. Sì, imitiamo i nostri fratelli, le nostre sorelle che si adoperano e si impegnano per il progresso dell'Evangelo, imitiamo quanti sono indaffarati nell'opera di Dio, non limitiamoci ad essere spettatori, siamo collaboratori, o meglio Dio ci aiuti ad essere collaboratori, e anche oggi ci saranno delle occasioni per servire il Signore. Anche oggi verrai qualche fratello, qualche sorella impegnata nel fare la volontà di Dio. Aiutalo, sostienilo, imitalo, non pensare che sia un fanatico, non pensare che sia sufficiente quello che il fratello e la sorella fa, l'opera di Dio ha bisogno anche di te. Prega affinché tu possa essere fedele in questo e possa essere utile al progresso del Vangelo. Che Dio ci benedica insieme e che Dio ci benedica durante i nostri culti che si eleveranno in questo nuovo giorno. La pace del Signore sia con tutti quanti noi.